Sì, si può imparare ad essere felici. Martin Seligman, oltre a sviluppare numerose ricerche sull'ottimismo e il pessimismo e sulla relazione con la depressione, ha dato avvio alla psicologia positiva, che si occupa dell'uomo sano, che sta bene e di come aiutarlo a migliorare la propria felicità. Questo perché la felicità non è innata e non dipende semplicemente dal caso o dalla fortuna, ma può essere appresa e incrementata. Il percorso sarà interamente svolto a distanza via Skype per favorire la fruibilità superando le barriere temporali e spaziali. Durante il percorso fornirò degli esercizi di applicazione questionari e del materiale riassumtivo sulle lezioni svolte. Il percorso prevede 14 passaggi da esplorare. Il percorso è costituito da 10 sessioni da 40 minuti circa da programmare in agenda. Cosa aspetti? Contattami se hai bisogno di altre informazioni e poi iniziamo! Ciao! 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 Ciao!